Musica Qui abbiamo tentato di ricreare lo studio. Questa mostra è l'universo di Vedova, è il pensiero di Vedova. Musica Abbiamo voluto che le opere di Vedova dialogassero con lo spazio. Musica Abbiamo bisogno di un gesto un po' forte, potente, astratto ma semplice. Musica Non si possono usare i muri, non si può usare il pavimento, quindi praticamente doveva essere una struttura autonoma. Il nostro gesto da fare era quello di mettere un elemento con un segno potente che dà un peso importante. Musica Musica